Salve a tutti ragazzi, vostro Lee. In questo nuovo video vedremo l'unboxing del GPX Lightback, un gamepad della Thrustmaster compatibile con Xbox 360 e PC. La società è stata così gentile da inviarmi questo sample per farne l'unboxing e recensirlo. Ci becchiamo tra poco! Bene ragazzi, eccoci con il GPX Lightback, un controller della Thrustmaster. Sulla scatola sono presenti le solite immagini illustrative e varie informazioni in varie lingue. Qui in alto c'è l'adesivo due volte più preciso. Tra poco vi spiegherò che cosa significa. Nel frattempo passiamo all'unboxing. Ok, mettiamo questo da parte. Ricordo che il controller è compatibile con Xbox 360 e PC. Mettiamo anche questo da parte. Mettiamo anche questo da parte. Ecco il controller. Iniziamo col cavetto. Lungo circa 3 metri e all'interno della confezione è incluso un adattatore USB. Se togliamo l'adattatore avremo accesso a questo simil cavo PS2. Somiglia molto a quelli per mouse e tastiere. Anche se il connettore interno è diverso, quindi non ho ben capito dove si possa collegare e come si chiama. Ma finché abbiamo l'adattatore USB non facciamoci di queste domande. Il controller è rivestito da una superficie ruvida e gli stick sono concavi. Questo evita di farci scivolare le mani sudate dovute a una lunga sessione di gioco. La disposizione dei tasti è rimasta la stessa rispetto al controller della Xbox 360. La differenza è che è leggermente più piccolo. Che cosa lo differenzia dunque rispetto ad un classico controller della Xbox 360? I grilletti, le luci qui in alto che vi farò vedere tra poco e la sensibilità, la precisione degli stick analogici. Se ben ricordate infatti sulla scatola vi ho fatto leggere l'adesivo due volte più preciso. Immaginiamo quindi un gioco di guida. Chi non riesce a dosare lo stick analogico, chi non riesce a dosare la sterzata, che cosa fa? Fa questo movimento. Che è sbagliato. Chi invece riesce ad avere un controllo maggiore sullo stick, riesce a dosare, riesce a calibrare meglio la sterzata. Anche se bisogna ogni tanto durante la curva correggere la traiettoria. Usando questo controller invece ho dovuto correggere molte meno volte durante una curva la traiettoria e non solo sono riuscito a migliorare il tempo, ma usciva anche molto molto più pulito dalle curve. Un'altra differenza dove sta? Come già ho detto, i grilletti hanno una corsa leggermente più lunga e sono molto più duri da premere rispetto a quelle del classico controller. Questo ci assicura una maggiore sensibilità alla pressione. L'ultima differenza puramente estetica, non ha nessuna utilità in gioco, è questa. Se vedete si stanno illuminando. È una specie di controllo della pressione. Quanto più lo premiamo, tante più luci si accenderanno. Quando si accenderà la luce rossa vorrà dire che siamo arrivati a fine corsa. Anche qui sotto gli stick, non so se... scusatemi avvicino. Se notate, il bulbo sotto lo stick è trasparente. Infatti mentre giochiamo sotto gli stick si accenderà una luce a seconda di quello che ci sarà sullo schermo. Ripeto, non ha alcuna utilità in gaming. È puramente un fatto estetico. Che dire dunque del GPX Lightback? Beh, non posso fare altro che consigliarvelo. Chi di voi ha visto il mio vecchio video su come usare il controller della PS3 col computer? Adesso invece di acquistare un controller della PS3 e usare Motion Enjoy per collegarlo potrà acquistare questo al prezzo di circa 40€ online. Euro più, euro meno. È molto molto preciso, è molto ben fatto, è di buona qualità e il fatto che sia ruvido evita di far scivolare le mani. Cosa essenziale per un giocatore a mio avviso. Perfetto, prendiamo la scatola. Eccola qui. Bene, per quanto riguarda l'unboxing del GPX Lightback è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, spero sia stato utile. Voglio ricordare che sul mio primo canale, Lee Siu Long, è possibile trovare molti altri video tutorial e consigli utili sul mondo dell'informatica. Mentre sul mio secondo canale, The Lee Gamer, di cui potete trovare il link giù in descrizione, potete trovare molti gameplay commentati dal vostro Lee. Mi raccomando, seguitemi anche su Twitter. Sono YouTuber Lee. Noi ci becchiamo ad un prossimo video. Bye bye! Grazie a tutti.